Benvenuti a tutti a questo secondo appuntamento che fa parte del percorso formativo legato la quinta edizione del censimento permanente sui banchi di scuola, l'iniziativa come sapete di comunicazione e di promozione della cultura statistica promossa dall'Istat grazie al contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ci consente anche materialmente di arrivare nelle scuole e di interagire con voi insegnanti. Vi ringrazio quindi di questa partecipazione. Allora con questo webinar proseguiamo il discorso che abbiamo già avviato la volta scorsa sull'utilizzo delle banche dati Istat abbiamo imparato a navigare nella banca dati censimento permanente della popolazione e delle abitazioni oggi invece comprenderemo l'utilizzo della banca dati Istat Data che è la nuova piattaforma per la diffusione di dati aggregati prodotti da Istat che permette di navigare in maniera completa la produzione statistica dell'istituto e che sostituisce definitivamente i punto stat, la vecchia piattaforma appunto. Lo scopo di questi appuntamenti, lo ricordiamo anche stavolta, è quello di aiutare voi insegnanti ad accompagnare i vostri alunni alla scoperta del patrimonio informativo dell'Istituto Nazionale di Statistica che produce, ma non soltanto raccoglie in banche dati e diffonde attraverso piattaforme online tutti i dati prodotti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono liberamente accessibili attraverso il sito Istat che è la finestra di accesso appunto a questi sistemi informativi. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà stavolta Giovanna Coiro che è un'esperta di questa banca dati. Giovanna lavora nella diffusione dei dati provenienti da varie fonti attraverso le banche dati dell'Istituto. In particolare per la banca dati Istat Data si occupa della gestione del contenuto informativo pubblicato mettendo a disposizione dell'utenza delle bellissime e utilissime tavole navigabili, estraibili e personalizzabili come vedremo durante questo appuntamento. Prima di lasciarle la parola io naturalmente approfitto di questo evento ufficiale di questa nuova edizione del censimento permanente sui banchi di scuola per ricordare in maniera molto sintetica il percorso formativo entro il quale questi appuntamenti tra l'altro sono inseriti che gli alunni sono chiamati a svolgere in preparazione del contest che comprende come sappiamo la competizione statistica, cioè le censi gare e la produzione di un progetto creativo sul tema censimento e territorio. Mi avvio dunque alla condivisione delle mie slide fermatemi se non vedete la mia presentazione. Allora, centreremo brevemente l'attenzione proprio sul percorso formativo questa volta. Allora, il progetto lo conosciamo, è un progetto di comunicazione, di censimenti e di promozione della cultura statistica. Il target anche, quindi, è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. La struttura è nota allo stesso modo, dunque, una parte di percorso formativo differenziato naturalmente per ordine scolastico, al quale è collegato un contest, la parte più attiva che vede i protagonisti, voi e gli alunni, suddiviso in una competizione statistica e in un concorso di idee. La cadenza annuale, quindi voi insegnate e avete tutto il tempo di organizzare queste attività lungo l'arco dell'anno scolastico in corso. Concentriamoci un momentino e brevemente ve lo prometto sul percorso formativo che è composto, come abbiamo già ricordato più volte, da quattro moduli. I primi due sono di tipo teorico e sono di carattere trasversale, quindi indirizzate sia alle scuole primarie sia alle scuole secondarie di primo grado e racconta che cos'è il censimento, come è cambiato nel corso della storia e a cosa serve la statistica, cioè esempi pratici per capire come nella quotidianità l'informazione statistica è importante per leggere e comprendere la nostra realtà e il territorio in cui viviamo. La seconda parte del percorso formativo è di tipo invece teorico ed orientato tutto alla preparazione dei ragazzi verso il contest e quindi questi appuntamenti, questi webinar fanno parte proprio del modulo 3, quindi impariamo a leggere i dati e soprattutto utilizzarli, impariamo a conoscere gli strumenti di accesso che l'Istat mette a disposizione dell'utenza e di tutti i cittadini per entrare nel patrimonio informativo della statistica ufficiale. E poi il modulo 4 invece è orientato a dare delle indicazioni pratiche su come affrontare il contest e quindi esercitarsi per la competizione statistica, quindi fornisce una batteria di test che gli studenti possono utilizzare per poter comprendere che tipo di competizione avranno di fronte e poi sono date delle indicazioni su come costruire un progetto di comunicazione che a partire dall'informazione statistica racconti il proprio territorio. Noi forniamo anche una sorta di guida all'utilizzo di questo materiale informativo che tutte le cose di cui sto parlando le trovate online sul sito Istat, poi vi ricorderò anche l'URL. Quindi noi vi suggeriamo di suddividere i vostri appuntamenti in aula sempre adattando i contenuti non soltanto all'ordine scolastico, alla classe, ma proprio al gruppo di alunni che voi conoscete benissimo e che vi trovate davanti. I materiali possono avere una lettura sintetica e una lettura più approfondita, quindi naturalmente voi siete liberi di tirar fuori da questi materiali formativi di contenuti che ritenete più opportuni condividere in aula. Potete pensare a due lezioni di tipo teorico in cui proprio spiegate, a partire da questi materiali formativi, voi non dovete ricercare nulla, avete tutti i contenuti e le informazioni a vostra disposizione. potete appunto immaginare due lezioni anche di un'ora ciascuno di tipo teorico per poter spiegare ai ragazzi cosa sono i censimenti e a cosa serve materialmente la statistica nella vita quotidiana. e organizzare altre due lezioni invece di tipo pratico a partire dal modulo 3 e dal modulo 4 per poter magari anche spiegare ai vostri alunni attraverso gli strumenti che possedete in aula, immagino anche la LIM, come entrare in queste banche dati, quindi come utilizzare la banca dati censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e questa nuova banca dati che oggi vi presenteremo è stata data. E poi una quarta lezione pratica in cui potete proprio esercitare e rispondere a delle domande. Nel modulo 4 ce ne sono tantissime, poi da questa batteria di domande che noi proponiamo saranno estratte 30 domande che faranno parte proprio della competizione, quindi lo scopo è trasferire dei contenuti e delle informazioni, non mettere in difficoltà voi e soprattutto gli alunni che affrontano questa competizione statica, e per esperienza vediamo come ci tengono molto a conseguire dei risultati buoni. Quindi potete farli esercitare e poi tirar fuori da questo modo degli spunti per poter costruire il vostro progetto che naturalmente vi prenderà qualche ora in più rispetto a queste quattro ore che noi ipotizziamo di formazione. Questo per dirvi che non è necessario nella grande quantità di attività che voi siete chiamati a svolgere in classe, di dedicare troppo tempo anche alla preparazione di questa iniziativa per poter arrivare preparati al contest. Quindi vi diamo queste indicazioni per aiutarvi anche a semplificare, perché poi probabilmente la maggior parte del tempo sarà dedicato a costruirlo questo progetto creativo, quindi un racconto per le scuole primarie, un'istantanea, un'infografica per le scuole secondarie di primo grado. Queste sono solo delle idee che noi suggeriamo per aiutarvi ad affrontare questo percorso insieme a noi. Sul sito dell'Istat a questo urle voi trovate tutto il materiale formativo, trovate anche questa guida sintetica a come affrontare, a come distribuire contenuti durante le vostre lezioni e troverete anche il link al webinar. Il primo webinar sarà caricato a breve e potrete proprio attraverso questa pagina raggiungerlo oppure utilizzare la pagina YouTube dell'Istituto Nazionale di Statistica dove sono caricati tutti i contenuti multimediali. E anche questo di oggi sarà in libero accesso tra qualche giorno in modo tale che sia i partecipanti che hanno desiderato di rivedere, ricomprendere, ripercorrere il viaggio all'interno delle banche dati con noi, sia coloro che non hanno partecipato proprio mettersi in pari rispetto a queste informazioni che per noi sono molto importanti. Riteniamo così utile la conoscenza dell'accesso alle banche dati che oltre a questo webinar abbiamo preparato anche dei tutorial di tipografico che potete utilizzare per poter capire quali sono le potenzialità perché oltre ai dati della statistica ufficiale che questi sistemi informativi mettono a disposizione è anche possibile costruire, come abbiamo visto la scorsa volta, delle belle mappe, delle belle tabelle che voi potete scaricare e utilizzare proprio anche all'interno dei vostri progetti creativi. Non rubo altro tempo, vi ricordo semplicemente il calendario delle nostre attività, il 28 febbraio nell'arco dell'intera giornata si svolgeranno le censicare, questo vuol dire che voi insegnanti potrete collegarvi quando lo riterrete più opportuno nella fascia oraria che andrà all'incirca, poi vi manderemo comunicazioni più precise dalle 9.30 alle ore 16, voi potrete trovare un'ora all'interno di questa fascia oraria per collegarvi alla piattaforma e svolgere la competizione statistica e poi presentare il progetto creativo della classe entro il 27 marzo. I vincitori saranno nominati come ogni anno al termine dell'anno scolastico e poi faremo una bella premiazione, una grande festa come ogni anno, presumibilmente nel corso del Festival della Statistica e della Demografia che si tiene ogni anno a Treviso. e queste slide contengono anche dei link utili per poter andare a recuperare tutti i contenuti e i materiali che vi occorrono per affrontare questo percorso, questa quinta edizione. Tolgo la condivisione e finalmente posso lasciare la parola a Giovanna Coiro che invito a comparire in video. Ciao a tutti, grazie Francesca per questa introduzione molto interessante. e come ha già anticipato Francesca, sono Giovanna e anch'io lavoro all'Istat e quest'oggi vedremo assieme la nuova banca dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, Istat Data. vi condivido lo schermo e vi volevo far vedere, ho preparato delle slide introduttive. Allora, quindi come già anticipato Istat Data è la nuova banca dati dell'Istituto Nazionale di Statistica. Che cos'è una banca dati? Una banca dati è, immaginatela come un visualizzatore di informazioni. La differenza tra questa banca dati e la banca dati del censimento permanente della popolazione che abbiamo visto la volta scorsa con Enrica è il fatto che la banca dati della volta precedente era un focus informativo sui risultati del censimento permanente. Adesso invece vedremo questa banca dati che mostra tutte le informazioni che vengono diffuse dall'Istat. Nello specifico vedremo degli aspetti generali quindi come funziona la navigazione per argomenti e focalizzeremo la nostra attenzione su due importanti sezioni che poi sono il fulcro della ricerca dei dati che è appunto la sezione dati dove si possono appunto osservare le tavole dati e ottenere delle sintesi grafiche quindi vedremo come possiamo personalizzare le tavole che andiamo ad osservare come modificare gli elementi visualizzati e il periodo di riferimento anche dei dati e poi anche come passare da una tavola, da una tabella ad ottenere un grafico interattivo perché possiamo appunto giocare con i menu a tendina e personalizzarlo ed esportarlo così come laddove è presente un dettaglio territoriale anche passare a delle mappe anche queste personalizzabili e esportabili. E poi c'è una seconda sezione importante che è quella delle sintesi di risultati che noi in termine tecnico chiamiamo raccolta di dashboard. Una dashboard non è altro che un prospetto di sintesi una pagina sintetica che va a raccogliere per ciascun argomento che vedremo viene contenuto in IstatData dei grafici, delle mappe, delle tavole che vanno poi a sintetizzare l'argomento che stiamo osservando. Ma entriamo nello specifico e che cos'è IstatData? Abbiamo detto una piattaforma di diffusione di macrodati. Macrodati quindi sono dei dati che provengono da diverse fonti. In IstatData abbiamo accanto a dei dati di natura puramente economica anche dei dati di natura prettamente sociodemografica e infatti per questo, come vedremo, i dati sono raggruppati per argomento. Questo sia per mettere ordine nelle informazioni che forniamo e sia per aiutare l'utenza nella ricerca poi dell'informazione e quindi nella visualizzazione della tavola dati. Come vedremo, le tavole possono essere trovate attraverso diversi percorsi di ricerca semplici e intuitivi e il mio scopo oggi è quello di farvi vedere attraverso degli esempi pratici come possiamo sfruttare al massimo questa nuova piattaforma per ottenere una rappresentazione grafica del fenomeno osservato e anche delle tavole da poter esportare. Come raggiungiamo IstatData? Dal link esploradati.istat.it l'home page che vedremo è la seguente. Vi volevo far vedere appunto navigando come vedete nella home page ci sono tre pulsantini informazioni, dati e sintesi dei risultati. Se noi clicchiamo informazioni ovviamente si apre una pagina con tutte le informazioni generali su IstatData quindi come si usa le caratteristiche tecniche è presente un manuale utente e anche il link al glossario statistico. È importante perché noi possiamo nel glossario cercare il significato delle parole che vengono dei termini che vengono utilizzati in diffusione quindi può essere utile nella migliore comprensione dei dati che stiamo osservando. Ma se io voglio trovare delle informazioni quindi vedere le tavole dati posso entrare in dati cliccare nel pulsante dati quindi se clicco su dati si apre una una pagina che come vedremo mostra le aspettate ok su dati come vedete si mostra allora si apre una pagina dove in alto è presente un menu a scorrimento orizzontale che cos'è questo o categorie cioè un insieme di categorie quindi in alto abbiamo questo menu a scorrimento orizzontale che è l'elenco di tutti gli argomenti che noi mettiamo a disposizione quindi sono le tematiche andiamo da ambiente di energia agricoltura e conti nazionali salute e sanità e così via quindi se ad esempio noi siamo interessati a cercare per esempio il numero di matrimoni nel 2022 comunque l'ultimo anno messo a disposizione dall'ISTAT quindi il numero di matrimoni dei comuni dei soli comuni in provincia di La Spezia io come faccio per cercarli? allora clicco sul pulsante dati entro in questa schermata in questa pagina e vado poi a cercare tra i vari argomenti qual è l'argomento dove sicuramente posso trovare questo tipo di informazione cercando tra le categorie io trovo la tematica popolazione e famiglie clicco esploro questa tematica questa categoria questo macro argomento e vedo che cliccando su popolazione e famiglie sotto si apre un elenco di raggruppamenti sono vedete sono dei raggruppamenti sono capiamo che sono dei raggruppamenti perché accanto davanti al nome per esempio popolazione e famiglie è presente una cartellina che cosa perché questi raggruppamenti non sono altro che dei raccolte di informazioni che vanno ad analizzare che riguardano specifici aspetti della categoria che stiamo osservando quindi di popolazione e famiglie noi abbiamo vari aspetti che può essere la popolazione le famiglie matrimonio unioni civili e così via nel nostro caso noi cliccheremo su matrimoni e unioni civili quindi cliccando su matrimonio unioni civili come vedete abbiamo a disposizione un elenco di altre sottocategorie quindi quindi dei altri raggruppamenti di informazioni di tavole dati quindi dei raggruppamenti che riguardano le informazioni dei soli matrimoni dei raggruppamenti che riguardano le informazioni relativi agli sposi e così via noi vogliamo cercare quanti matrimoni ci sono nei soli comuni in provincia di La Spezia quindi sicuramente cliccheremo nel raggruppamento matrimoni se clicchiamo vedete si apre qui un elenco di tavole perché queste sono delle tavole e quelle invece erano dei raggruppamenti perché davanti al nome è presente questa griglia quindi per esempio rito percentuale vedete davanti è presente questa griglia quindi se io ci clicco apro la tavola ma mi rendo conto che oltre a questo elenco di tavole sopra è presente un raggruppamento regioni e comuni in genere quando su istatdata troviamo un raggruppamento che si chiama regioni e comuni vuol dire che abbiamo un insieme di tavole ciascuna per ogni regione che va a sviluppare l'argomento che stiamo osservando in questo caso matrimoni però con un dettaglio comunale quindi io clicco su regioni e comuni e vedete ho praticamente un elenco di tavole che riguardano le varie regioni e io ovviamente cliccherò su Liguria cliccando su Liguria vi faccio vedere come si visualizza la tavola all'interno di istatdata allora intanto già si intravede in alto a sinistra il nome della tavola che è Liguria poi il sistema una volta che ha trovato le informazioni ci mostra la tavola vedete allora in alto a sinistra c'è il nome della tavola quindi Liguria poi la frequenza in questo caso si tratta di dati annuali infatti se vediamo i dati sono filtrati all'ultimo anno disponibile 2022 poi un'informazione importante da leggere ogni volta che andiamo a consultare una tavola dati su istatdata è l'informazione relativa alla dimensione indicatore indicatore in alcuni casi aggregato perché perché noi con l'indicatore andiamo a dettagliare il numeretto ci andiamo a specificare come quel numeretto che noi visualizziamo nella tavola dati è stato che cosa conteggia che cosa stiamo visualizzando quindi questo 1391 sotto religioso sono il numero di matrimoni matrimoni religiosi in Liguria quindi è importante leggere l'indicatore che cosa stiamo contando in questo caso i matrimoni poi vediamo che infiancata è presente la dimensione territorio quindi livello regionale le province e i relativi comuni intestata è presente quindi nelle colonne sono presenti il rito di celebrazione del matrimonio quindi religioso civile e tutte le voci e il tempo la dimensione tempo è messa a tendina infatti se io clicco vedo che ho a disposizione addirittura dal 2004 al 2022 ora io però voglio soltanto visualizzare soltanto i comuni della provincia di La Spezia e voglio vedere soltanto gli ultimi 5 anni messi a disposizione dall'Istat quindi dal 2018 al 2022 come faccio io devo andare a selezionare le voci quindi vado a sinistra nel pulsantino selezioni clicco e come vedete si sta aprendo una finestra che si chiama appunto selezioni e in alto mostra le dimensioni che sono presenti nella tavola che abbiamo visto prima noi per selezionare ovviamente dobbiamo personalizzare il territorio selezionare le modalità nel territorio dobbiamo cliccare su territorio ovviamente il sistema ci apre una finestra che un alert che ci dice che se proseguiamo quindi se clicchiamo conferma noi applichiamo delle modifiche alla tavola e noi ovviamente la vogliamo modificare quindi clicchiamo su conferma e sotto territorio si apre l'elenco di tutte le modalità di tutte le voci del territorio quindi tutte le voci che abbiamo visto prima vi voglio far vedere due tipi di selezione allora innanzitutto vedete questo pulsantino qui espandi tutto se clicchiamo mi permette di vedere sotto esplosa tutta la dimensione del territorio quindi vediamo tutte le voci che stavano infiancata se clicchiamo su quest'altro pulsantino comprimi tutto queste due frecce se ci clicco ovviamente si richiude tutta la la dimensione che ho fatto vedere prima ora il sistema e questo è importante permette di fare una selezione sia manuale quindi voce per voce io posso andare a biffare le voci che voglio visualizzare oppure posso utilizzare due strumenti allora vedete qui praticamente c'è una linea che divide la schermata ci abbiamo davanti sopra seleziona tutti gli elementi a livello 0 seleziona tutti gli elementi a livello 1 seleziona tutti gli elementi a livello 2 e così via e sotto abbiamo le varie modalità le varie voci che cosa faccio se io ad esempio clicco su seleziona tutti gli elementi a livello 3 se io ci clicco allora vedete innanzitutto il territorio già mi dice ho selezionato 236 voci e quali sono queste voci? non sono altro che tutti i comuni perché seleziona tutti i comuni? questo è un modo rapido per selezionare invece di selezionare manualmente selezionare in automatico tutte le voci che si trovano nello stesso livello questo ovviamente sto dicendo con seleziona tutti gli elementi a livello 2 mi dice biffa tutti i comuni perché tutti i comuni? perché sto dicendo al sistema vai a selezionare tutte quelle voci che hanno il quadratino nello stesso livello di quello che sto selezionando sostanzialmente ma questo ovviamente questo tipo di selezione nel nostro caso non ci interessa perché noi vogliamo selezionare soltanto i comuni della provincia di La Spezia quindi debiffo e come faccio? allora vado in corrispondenza di La Spezia allora o ovviamente manualmente vado a selezionare tutti quanti i comuni oppure dopo la scritta La Spezia vedete sotto e vicino c'è una griglia con una V e questo pulsantino permette di selezionare o deselezionare tutti i fighi della Spezia se io ci clicco seleziona tutti i comuni della Spezia vedete gli altri non sono selezionati ed è quello che noi volevamo poi andiamo nel tempo abbiamo detto che nel tempo noi vedevamo gli anni gli anni vedete sono da 2004 a 2022 io sono interessata a vedere soltanto gli ultimi 5 anni quindi o clicco su 2004 e scelgo dal 2018 al 2022 oppure invece di range personalizzato clicco solo gli ultimi periodi e cliccando solo gli ultimi periodi seleziono gli ultimi 5 anni allora posso o utilizzare queste freccette quindi vado avanti fin quando arrivo a 5 oppure scrivo 5 e clicco su applica vi faccio vedere come la tavola inizia ad essere personalizzata ok allora vedete il tempo se io clicco sul menu a tendina vado dal 2018 al 2022 quindi gli ultimi 5 anni quello che volevamo il territorio è personalizzato con i soli comuni della provincia di La Spezia ulteriori funzioni vedete accanto al territorio è presente questo imbuto che non è altro che un filtro può essere utile se noi ci clicchiamo avete varie opzioni però in genere viene utilizzato uguale a io posso scrivere per esempio Lerici se clicco su applica vedete vado a filtrare le informazioni e il sistema fa in automatico vedere le informazioni solo nel comune di Lerici per togliere il filtro clicco e scrivo rimuovi poi un altro strumento che può essere utile è per esempio effettuare un ordinamento di matrimoni tra per esempio se io voglio vedere qual è il comune col maggior numero di matrimoni nel 2022 perché le informazioni sono filtrate per quest'anno basta che clicco su questa freccettina all'ingio quindi praticamente un ordinamento decrescente se io ci clicco vedete in automatico io ordino la prima colonna dal valore più grande al valore più piccolo quindi a colpo d'occhio so che Punto Venere è il comune con maggior numero di matrimoni con rito religioso nel 2022 ovviamente qui mi rendo conto che ho un ordinamento perché è colorato di azzurro se ci clicco ritorno alla situazione precedente la stessa cosa posso fare in ordine crescente ora questa tavola così com'è non mi piace perché voglio fare un confronto tra gli anni quindi voglio mettere gli anni in testata e mettere a filtro il rito di celebrazione del matrimonio quindi voglio personalizzare la visualizzazione quindi vado nel menu personalizza visualizzazione ci clicco vedete si apre una una finestra chiamata proprio disposizione tabellare che mostra quattro box e ci fa vedere dove le dimensioni sono collocate nella tavola che stiamo osservando quindi nei filtri abbiamo visto che c'era la presenza la frequenza l'indicatore e il tempo nelle sezioni non c'era nulla nelle righe c'era il territorio e nelle colonne il rito di celebrazione del matrimonio ora come faccio io a spostare le dimensioni all'interno della tavola basta semplicemente cliccare sulla dimensione che voglio spostare ad esempio il tempo tengo premuto e la trascino nel box dove la voglio collocare vedete che qui a destra è presente una preview un'anteprima in tempo reale che ci permette di capire come la tavola diventa nel momento in cui applico questa modifica io ho detto che il tempo lo volevo intestata quindi nelle colonne e il rito di celebrazione come filtro clicco su applica vedete la tavola è cambiata io ho personalizzato la visualizzazione ulteriori funzioni che posso avere su i stat data è per esempio l'ordinamento dimensione temporale non è questo il caso perché abbiamo soltanto 5 anni però immaginate una situazione in cui ho tanti anni una serie storica e in genere le tavole presentano sempre nelle prime colonne i valori e gli anni più lontani e nelle ultime ovviamente gli anni più recenti se io voglio fare voglio a colpo d'occhio vedere nelle prime colonne i dati più recenti sfrutto questa opzione che è ordinamento questa funzione di ordinamento dimensione temporale clicco sul menu a tendina e da crescente clicco su seleziono decrescente vedete nelle prime colonne mette gli ultimi anni disponibili poi un'altra opzione un'altra funzione è per esempio la dimensione del testo in genere in tutte le tavole c'è una dimensione del testo normale però posso decidere di ridurre la dimensione del testo come renderla più grande per visualizzare meglio i numeri nella tavola ogni tavola può essere visualizzata in questo modo oppure cliccando su schermo intero posso vederla a schermo intero e comunque posso sempre ulteriormente personalizzarla giocando col menu a tendina per ritornare alla situazione di partenza io clicco su esci quindi questo pulsantino qui e poi ogni tavola la posso esportare quindi cliccando su questa freccetta esporta io clicco su Excel e vedete io posso esportare scaricare la visualizzazione corrente quindi che cosa scarica un file Excel che contiene esattamente le informazioni che sto visualizzando la tavola così com'è quindi con le informazioni filtrate per rito religioso se invece scelgo intero dataset io ovviamente lo sconsiglio per tavole con tante modalità con tante voci che cosa fa va a scaricare un file Excel dove si crea dei fogli e ogni foglio mostra la combinazione relativa ad una delle modalità del menu a tendina cioè si crea un foglio per le informazioni filtrate per il rito religioso un foglio per le informazioni filtrate per il rito civile e l'altro per tutte le voci se dalla tavola io voglio passare al grafico clicco sul menu grafico e vedete avete a disposizione varie opzioni di grafici supponiamo di voler fare un grafico a barre verticali clicco su barre verticali vedete il sistema mostra per gli ultimi cinque anni disponibili per ogni anno il confronto tra il matrimonio religioso e il matrimonio civile per default il sistema mette mostra la prima voce che si trova nell'elenco quindi in questo caso il comune di Amelia se noi per esempio vogliamo vedere il comune di La Spezia lo andiamo a cercare col cerca vedete e ho visualizzato le informazioni per questo comune supponiamo che io ovviamente voglio personalizzare questo questo grafico non mi piacciono i colori non mi piace l'azzurro per il religioso e il rosa per il civile che cosa faccio vado su impostazioni grafico ci clicco vado su colori e clicco su aggiungi colore ovviamente io voglio modificare il colore del rito quindi clicco sul più quindi su dimensione clicco su più quindi seleziona dimensione si apre ovviamente l'elenco delle dimensioni della tavola ma io voglio agire sul rito di celebrazione del matrimonio clicco sul rito di celebrazione del matrimonio e il valore della dimensione cioè quale voce del rito voglio modificare il colore clicco su più religioso e clicco sul grigetto ovviamente mi si apre la scala di colori che posso scegliere ad esempio facciamo questo violetto chiudi conferma poi clicco su aggiungi colore io voglio ovviamente modificare anche il colore per il rito civile quindi dimensione clicco su seleziona dimensione quindi il più rito di celebrazione del matrimonio e valore dimensione cioè a quale voce voglio cambiare il valore clicco su più il civile perché religioso già l'abbiamo cambiato prima clicco sotto colore sul grigetto e per esempio decido di mettere il colore arancione clicco su chiudi conferma applica vedete ho cambiato i colori delle colonne ora un'altra funzionalità un'altra funzione se io clicco per esempio su civile io filtro le informazioni soltanto per religioso quindi vado ad escludere questa voce dal grafico se ci riclicco la rivisualizzo poi se passo con il cursore su ogni colonna mi si aprono dei pop up che danno le informazioni di sintesi di quella colonnina quindi ad esempio qua sto visualizzando le informazioni relative ai matrimoni del 2019 con rito di celebrazione civile che sono appunto 191 sempre per il comune di La Spezia ovviamente altre funzioni voglio inserire voi vedete a sinistra nell'asse dei valori ci sono soltanto i valori ma io voglio mettere per esempio voglio scrivere numero di matrimoni e sotto invece di tempo voglio poter scrivere ultimi 5 anni diffusi dall'Istat come faccio? vado sempre su impostazioni grafico e metto abbiamo detto voglio cambiare l'etichetta dell'asse dei valori che non c'è ma voglio inserire quindi scriverò numero di matrimoni poi bifo su personalizza l'etichetta dell'asse delle categorie quindi quella che vediamo sotto che per default è scritto tempo e scrivo ultimi 5 anni diffusi dall'Istat se clicco su applica vedete ho inserito numero di matrimoni nei valori e ultimi 5 anni diffusi al posto del tempo un'altra opzione se vado in impostazioni grafico vabbè impila la dimensione secondaria mette la colonina una sopra l'altra la posizione della leggenda io ve lo faccio vedere per default qui è messa sopra io la posso magari spostare a destra e posso decidere di mostrare i valori sul grafico bifando questa opzione clicco su applica vedete il grafico è cambiato ora il 191 non ho bisogno di andare col cursore per visualizzarlo ma è già scritto sulla colonina e ok così il grafico ci piace lo vogliamo esportare come faccio vado su esporta questa freccetta qui ci clicco e posso vedete esportarlo sia in pdf che in immagine esportiamolo come immagine qui per default il sistema indica Liguria perché Liguria è il nome della tavola da cui siamo partiti però magari in questo caso possiamo scrivere la spezia matrimoni per rito di celebrazione matrimoni per rito di celebrazione dal 2018 al 2022 se clicco su applica il sistema mi estrae l'immagine l'immagine mi faccio vedere scusate che ho il computer un po' lento però sta lavorando e comunque vi volevo far vedere che estrae l'immagine con il titolo personalizzato se ce la mostra allora niente non me lo fa vedere riprovo a vedere se me lo fa scaricare ok no perché oggi ho il computer abbastanza lento ok 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 riprendo quello lì scusatemi perché ho il computer abbastanza lento quando faccio queste curazioni quindi mi dispiace che insomma però funziona è il computer che adesso non mi sta facendo vedere quello che gli sto dicendo di far vedere eh lo sta prendo lo sta prendo forse ce l'abbiamo fatta così se vedrete anche voi una difficoltà nel caricare i contenuti che avete ehm selezionato all'interno della bancata vi capirete che potrebbe eh essere un problema di rete così senza difficoltà vi diamo subito una risposta in caso di criticità sì sì no vabbè ma sì 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 no è perché oggi ho proprio il computer che mi va un po' lento quindi è per quello eh mi dispiace perché vuole far vedere però adesso non mi fa non mi fa visualizzare l'immagine dispiace ok forse mi sta facendo vedere se no vado avanti con altre opzioni e poi sì magari forse è meglio perché sta girando quindi qualcosa infatti non vabbè mi dispiace perché purtroppo nel frattempo se qualcuno ha delle domande possiamo mentre aspettiamo sì 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 perché lo so perché potete scriverle senza problemi in chat tra l'altro ci siamo resi conto che volevamo anche recuperare una domanda non risposta la scorsa volta quindi eventualmente eh potremmo fare anche questo nel frattempo cioè la la volta scorsa eh era stata effettuata una domanda sulla banca dati censimento permanente della popolazione delle abitazioni quindi se abbiamo tempo oggi la recuperiamo ma in questo momento se avete dei dubbi delle domande particolari potete scriverle in chat sì sì perché tanto non lo so perché non mi fa non ho problemi nel non lo scaricare le immagini non lo so perché cioè non si preoccupare tanto ci abbiamo alla conclusione insomma sì 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 no cioè magari vado avanti con questo però sì perché infatti mi apre tutto ora mi ha aperto di tutto e di più e non mi ha aperto quello che volevo far aprire insomma però vabbè comunque si ha cioè c'è la possibilità di scaricare e quindi magari se potete farlo anche in autonomia oppure per qualunque supporto insomma sono disponibile è abbastanza semplice con esporta esporta sia l'immagine con quel pdf con il titoletto cioè esattamente l'immagine così personalizzata con il titoletto che abbiamo scritto noi quindi fidatevi mi dispiace però purtroppo non me lo fa non me lo fa scaricare non capisco perché allora e volevo andare avanti perché volevo far vedere le ultime cose cioè anche altre opzioni anche altre funzioni no in altri in altri ambiti allora adesso abbiamo visto per esempio i matrimoni però possiamo ho detto che possiamo raggiungere le informazioni da vari percorsi noi abbiamo cliccato sul pulsantino dati però se per esempio vogliamo osservare le informazioni relativi per esempio ai viaggi posso andare sul menu di navigazione questo qui è nel bandone blu sta in alto a sinistra queste tre linette se ci clicco vedete è sempre l'elenco degli argomenti però questi argomenti sono disposti in maniera verticale non orizzontale come abbiamo visto prima quindi se voglio vedere informazioni sui viaggi sicuramente andrò su cultura comunicazione e viaggi ci clicco vedete ho vari argomenti e in queste sottocategorie vedo che c'è proprio una categoria viaggi e posso essere per esempio interessata a vedere i viaggi per motivo se ci clicco vedete ho c'è scritto dati 9 e davanti c'è questa griglia che cosa vuol dire questo vuol dire che il sistema mi sta dicendo che ho a disposizione 9 tavole dati infatti se clicco qui vedete mi si apre proprio la schermata con l'elenco che abbiamo visto prima quindi una schermata con un elenco di tutte le tavole sono tavole perché c'è una griglia davanti e io posso anche qui cliccare e visualizzarle un'altra cosa importante qui sopra è presente il percorso che noi abbiamo fatto per arrivare a visualizzare questa pagina quindi se per esempio io vedo viaggi per motivo vedo le varie tavole e non sono interessata a vedere per esempio non trovo nessun tipo di informazioni che mi possa interessare per ritornare indietro vado sul livello superiore quindi ritorno per esempio in viaggi non trovo nulla che mi interessa qui allora ok ritorno per esempio su cultura comunicazione e viaggi oppure posso andare addirittura a cliccare su categorie e quindi ritornare poi alla navigazione orizzontale che abbiamo visto prima vi volevo far vedere le mappe quindi per esempio se andiamo su popolazione famiglie popolazione non so ad esempio popolazione semisupercentenaria se ci clicco vado a far vedere come anche le mappe insomma sono interattive e personalizzabili allora qui è una tavola dati che presenta i semisuper in Italia i semisupercentenari al primo gennaio ovviamente gli anni disponibili sono dal 2009 al 2023 il sesso per default è totale l'opportunità di vedere maschio e femmine come faccio a passare noi prima abbiamo visto nell'esempio precedente come siamo passati da una tavola personalizzata a un grafico ora invece da questa tavola io ho un dettaglio territoriale vedete se clicco sul menu a tendina o a livello addirittura regionale per passare dalla tavola alla mappa clicco su mappa e mi si aprirà appunto la mappa che mostra i semisupercentenari al primo gennaio o l'anno di nascita al primo gennaio quindi il tempo è filtrato del 2023 quindi i semisupercentenari nel al primo gennaio del 2023 col sesso a totale però nati nel 1917 una particolarità allora se io passo con il mouse sulle varie regioni vedete mi comparirà il nome della regione e il valore corrispondente quindi nel Lazio sono 22 poi posso giocare col menu a tendina quindi da totale per esempio selezionare maschi e posso essere ovviamente un colore un po' più accentuato il blu più scuro vuol dire che c'è un numero più elevato quindi per esempio se vado su Sicilia se io clicco su Sicilia vedete il sistema zoom la regione su cui ho cliccato per ritornare a vedere tutta la mappa clicco su ripristina zoom io ho la possibilità di zoomare la mappa di ridurre ovviamente lo zoom ma anche di fare una selezione quindi per esempio se io clicco su mostra tool di selezioni per esempio posso fare una selezione rettangolare e cosa faccio? tutte le regioni che sono toccate da questo rettangolo restano colorate le altre sono in grigetto questo perché magari posso essere interessante evidenziare una particolare concentrazione relativa a determinate regioni anche qui ovviamente le mappe posso vederle a schermo intero e posso sempre continuare a giocare con il menu a tendina vedete quindi vedere femmine maschi totale cambiare l'anno di nascita posso ritornare con esci alla schermata precedente e posso anche qui esportare ma purtroppo non mi dispiace ma non ve lo posso far vedere però posso esportare l'immagine come posso esportare la mappa o come immagine oppure in pdf anche qui inserire un nome insomma alla mappa che sto visualizzando negli ultimi minuti volevo farvi vedere la sezione che ho accennato prima che è la sezione sintesi dei risultati se clicco su sintesi dei risultati come ho detto prima abbiamo un elenco di pagine riassuntive è importante perché allora nella sezione dati noi andiamo a visualizzare le tavole una ad una ma se per esempio per popolazione e famiglie noi vogliamo vedere o vogliamo avere in una pagina una sintesi di quelle che sono le principali caratteristiche di quel fenomeno noi conviene andare in questa sezione quindi qui in alto vedete c'è un elenco a scorrimento di tutti i principali fenomeni più richiesti dall'utenza e che abbiamo messo a disposizione e se per esempio noi noi scorrendo questo menu possiamo decidere per esempio di osservare non lo so il fenomeno esplorare per esempio il fenomeno giustizia e sicurezza se clicchiamo su giustizia e sicurezza ci si aprirà una schermata riassuntiva quindi in questa schermata ho dei grafici delle mappe e delle tavole che maggiormente rappresentano quel fenomeno e quindi diciamo una sintesi per quel fenomeno che sto osservando tutto qui ora quando si apre vi faccio vedere come si caratterizzano queste pagine riassuntive cioè che cosa vediamo sostanzialmente e anche queste sono posso visualizzarle a schermo intero oppure soltanto oppure come le sto visualizzando come si dovrebbero visualizzare adesso ok allora vi faccio vedere quindi per esempio delitti denunciati dalle forze di polizia le autorità giudiziaria vedete è un grafico ora quando mi apre ok è praticamente un insieme di grafici e tavole in genere noi mettiamo il grafico e poi la tavola dal quale è stato su cui è stato costruito questo grafico se lo possiamo mettere a schermo intero la possiamo esportare anche questo sia le tavole e sia i grafici che le mappe anche qui possiamo giocare col menu a tendina qui per esempio vengono messi a confronto due tipi di delitti i furti in abitazione i furti in esercizi commerciali però noi possiamo cliccare sul menu a tendina e selezionare per esempio truffe e frode informatiche vedere per esempio come si sono sviluppate nel tempo qual è l'andamento nel tempo e vediamo che c'è per esempio in Italia proprio un incremento nel periodo appunto del lockdown sostanzialmente c'è stata un'impennata però anche qui posso giocare col menu a tendina posso vedere per esempio la situazione in Piemonte e in altre regioni e così via la stessa cosa la posso fare ovviamente sotto con per esempio altri grafici altre mappe quindi per esempio qui ci sono se mostro per esempio a schermo intero vedete c'è per esempio qui le vittime che si rivolgono al 1522 il telefono rosa e qui posso anche qui personalizzare il grafico che sto visualizzando quindi per esempio vedo che la classe di età dove ci sono maggior concentrazione di vittime di violenza è quella di 35 44 anni quindi posso magari escludere dal grafico le altre classi e visualizzare l'andamento soltanto di questa per esempio e vedere per esempio che nel 2013 c'era un maggior ricorso e poi è andato via via insomma riducendosi posso fare un confronto tra varie regioni cioè posso giocare col menu a tendina e vedere non lo so la situazione nel Piemonte vediamo che comunque il Piemonte ha questa situazione ma se per esempio vediamo in Sardegna ad esempio vediamo che il ricorso è molto minore rispetto per esempio al Piemonte e così via io vi invito comunque a consultare queste pagine io ho visto soltanto giustizia e sicurezza ma c'è per esempio popolazione navigazione territoriale che permette di vedere la popolazione residente dal 1982 ad oggi ci sono vari fenomeni che vengono messi in evidenza e sono sintetizzate da questi da queste pagine riassuntive io mi sono dilungata anche un po' troppo quindi mi dispiace per insomma il disguido tecnico che si è creato però insomma per qualunque cosa sono a disposizione insomma voi basta che scrivete nella casella di posta noi cioè io Enrica la collega della volta scorsa che ha mostrato insomma la banca dati relative al censurimento permanente della popolazione quindi per qualunque dubbio chiarimento ma anche feedback sul sistema a noi fa piacere e sono qui a disposizione insomma per qualsiasi chiarimento vi ringrazio per l'ascolto vi saluto grazie mille Giovanna davvero per questa presentazione così dettagliata di una banca dati così importante per quanto riguarda il progetto creativo voi potete utilizzare qualsiasi informazione statistica tratta dal percorso formativo che mettiamo a disposizione dalle banche dati che abbiamo conosciuto attraverso questi due webinar ma posso spingermi più avanti anche pensando che qualcuno di voi vorrà organizzare qualche indagine all'interno della propria classe del proprio territorio che vive per poter poi raccontarlo attraverso un contenuto di comunicazione che può essere un racconto per le scuole primarie un'istantanea un'infografica per le scuole secondarie di primo grado se abbiamo tempo potremmo recuperare anche una domanda che ci è stata sottoposta la volta scorsa la quale non abbiamo risposto semplicemente perché non l'abbiamo intercettata e non so se Giovanna o Enrica vorranno dare il loro contributo un vostro collega una vostra collega ci ha detto se volessi confrontare dati comunali con quelli provinciali e regionali mi conviene prima entrare in regione comune e poi in regione provincia questa era una domanda per la banca dati censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e mi taccio poi voglio dire solo una cosa qualsiasi dubbio resterà oggi a seguito di questo webinar potete scriverci all'indirizzo censimento.scuola chiocciola istat.it che è nuovamente in funzione quindi grazie al webinar della volta scorsa ci siamo accorti che non funzionava la casella in ricezione ne riusciva solo a trasmettere quindi qualsiasi domanda adesso ci arriverà e noi la gireremo alle nostre esperte che potranno darci tutte le risposte di cui abbiamo bisogno prego Enrico Francesca c'è un'unica un'ultima domanda in chiusura viene chiesto se il punteggio verrà attribuito solo in base alla correttezza delle risposte o anche al tempo impiegato accordo allora prima di dare la parola pochissimi minuti a Enrica dico questo allora il punteggio verrà dato per le risposte corrette quindi ogni risposta corretta avrà un punteggio 1 ogni risposta sbagliata avrà un punteggio 0 ogni non risposta avrà un punteggio meno 1 questo per aiutarvi insomma a rispondere a dare comunque la vostra opzione e a parità di risposte esatte viene considerato il tempo impiegato il punteggio conseguito dalla competizione statistica costituirà un bonus che potrà essere speso nella selezione dei progetti creativi tutte queste informazioni comunque sono scritte nel regolamento il regolamento è pubblicato nella pagina principale dell'iniziativa ma per qualsiasi altro dubbio siamo qui Enrica in poche parole se puoi dare una risposta a una domanda che ti ho sottoposto grazie velocemente riepilogo i vari casi allora se siete interessate a esplorare le informazioni che sono disponibili per una regione per una specifica regione cliccate sulla regione entrando nella regione avete tutto il dettaglio territoriale di quella regione quindi il dato totale della regione tutte le province della regione e tutti i comuni se volete invece avere una panoramica e invece confrontare i dati di più regioni e più province avete l'altra possibilità di entrare in regioni e province lì avete il dettaglio però di tutte le regioni di tutte le province insieme ma perdete il dettaglio comunale quindi se ho capito bene la domanda se quindi invece volete confrontare due comuni di due regioni diverse dovete entrare nella regione Piemonte e trovare il comune di interesse e estrarre i dati poi andare in Liguria trovare il comune della Liguria estrarre i dati per quel comune e a questo punto confrontarli non avete una navigazione dove avete tutti i comuni di tutta l'Italia questo è in sostanza non so se mi sono spiegata se la risposta c'è una risposta chiarissima chiarissima ok allora ti ringrazio molto ringrazio tutti quanti e non so non mi sembra Marco che ci siano altre domande in chat fammelo presente no altre domande non ce ne sono allora vi ricordo che questi webinar saranno presto disponibili online sul sito Istat e sulla pagina YouTube dell'Istituto Nazionale di Statistica quindi potranno essere rivisualizzati vi posso dare l'indicazione per coloro che vogliono avere dettagli ulteriori sulla competizione statistica e sulla realizzazione del progetto creativo che noi lo scorso anno abbiamo realizzato appositamente due webinar eventualmente vi manderemo via mail il link per poterli andare a rivedere di proposito quest'anno non li abbiamo riproposti ma abbiamo pensato di concentrarci soprattutto sulle banche dati Istat perché sono ancora disponibili sul nostro sito Istat e sulla pagina YouTube dell'Istituto Nazionale di Statistica quindi in quei due webinar avrete tutte le indicazioni necessarie per poter affrontare con maggiore facilità il contest quindi un webinar dedicato a licensicare e un webinar dedicato alla realizzazione del progetto creativo vi saluto e ringrazio ancora Giovanna di questa spiegazione ringrazio anche Enrica di aver completato la presentazione della precedente esposizione ringrazio voi che avete partecipato con tanta pazienza siete rimasti anche oltre l'orario previsto grazie anche a Marco che ci ha supportato e a Franco che è nascosto un altro collega che è nascosto tra voi buonasera arrivederci e buona statistica a tutti grazie a tutti